Come ti dicevo prima, devi ascoltare il tuo corpo, il tuo corpo, la tua mente sta meglio quando ti alleni, allenati. Tutti i pazienti che fanno il trapianto iniziano a allenarsi o ritornano ad allenarsi. Un lettino guardano Netflix, usano il telefono, fanno videoconferenze, non c'è mai il gioco. Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo episodio di Fit Cash. Oggi insieme a me a presentare c'è mia moglie Irene. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti ancora. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella. Ma oggi qua con noi c'è un ospite speciale perché abbiamo Pasquale Minasi. Però raccontaci un attimo di che cosa ti occupi e chi sei Pasquale. Super, grazie per avermi qui oggi. Sono un imprenditore internazionale italiano di origine. Uno dei miei brand principali è Blue Magic Group International. Siamo una clinica di chirurgie plastiche tra piante di capelli a Lucatia in Istanbul. con uffici a Dubai, a Londra e a Tirana, in Albania. Ok. Tu sei nato e cresciuto dove? Allora, io sono originato di Napoli. Sono cresciuto al lago di Garda, quindi nel nord Italia. Ma manco in Italia da praticamente otto anni. Da 2015 mi sono trasferito a Londra. Cavolo. E ci stavi dicendo prima che tuo padre è di Milano, zona Milano. Però lui si era spostato per lavoro e tu sei nato là, però la tua famiglia è del nord Italia. Sì. Mio padre è nato a Milano, ma un anno si è trasferito a Napoli, a Scampia. Ho vissuto per vent'anni. E mia mamma è napoletana. Ah, ok. Sì. Però abbiamo vissuto al lago di Garda. Ok. E perché poi vi siete spostati... Ti sei spostato all'estero, appunto? Mio padre per lavoro si spostò a vent'anni. Però è entrato nell'aurenautica di Ghedi, provincia di Brescia, quindi militare. E aveva conosciuto mia madre e si sono spostati al nord, diciamo, per lavoro. Per avere più opportunità di lavoro. Ok, ok. E invece appunto il tuo lavoro da cosa viene fuori? Cioè, perché hai scelto proprio questo ambiente, ecco, questo ambito? Eh, ci sono cose che scegli e ci sono cose che un po' vengono le incontri, no? Durante il cammino della vita. Diciamo che nel 2017 facevo l'agente immobiliare a Londra e sono andato a fare il trappianto di capelli a Istanbul. Per te? Per te stesso? Per me, sì, sì, per me. Infatti hai un bellissimo... Meglio di prima, sì. Dovevo farlo anch'io perché ero leggermente stempiato, mi era passata l'idea per la testa, poi mi sono rasato e ho detto, cavolo, mi piaccio di più da rasato, sto rasato. Tanti mi dicevano stavi meglio rasato, però almeno hai la scelta, diciamo, quando fai il trappianto puoi fare entrambi. Sì, infatti adesso dopo parleremo se c'è speranza anche per il mio marito che si piace rasato, ma a me no e quindi... Io sono leggermente stempiato. Speriamo che venga convinto dopo questo podcast. E comunque sì, diciamo, sono stato a Istanbul per il trappianto di capelli, ho scoperto un mondo che non conoscevo. mese prima del trappianto, diciamo, non avevo neanche a conoscenza che ci fossero soluzioni del genere, il trappianto di capelli. Una volta che mi sono andato a Istanbul a farlo, ho conosciuto un mondo diverso, ho visto migliaia e migliaia di persone con quelle famose... Che lì le cliniche sono molto gettonate, ce n'è tantissime in Turchia. Sì, 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 sono più di 600 cliniche. Cavolo, cavolo. Ma come mai sono tutte localizzate lì, proprio? Allora... Se tu vedi, a volte fanno ridere, no? Sti video che vedo sui social, no? Dove tipo fanno vedere quando prendi ieri, appunto, per queste località, che al ritorno c'è sempre tutta la gente con... Piena di... Sono tutti bendati. Con la fascetta, piena di... Il trappianto, il naso, chi... Guarda, Istanbul è la madre del trappianto di capelli, ma anche delle chirurgie plastiche al mondo, ok? Diciamo che è una nazione che ha preso in mano proprio le chirurgie plastiche. Lì trovi un sacco di expertise, un sacco di dottori con tanta esperienza e a prezzi modici. Quindi magari quello che qua trovi in Europa o in America ad un prezzo, lo trovi a un quarto del prezzo, a un terzo del prezzo in Istanbul, con qualità anche migliore. Il trappianto di capelli è uno di quei settori all'interno della chirurgia plastica che la Turchia ha fatto crescere in maniera esponenziale. Hanno investito tanto su questo settore. Sì, fai conto, nel 2022 ci sono state 1.8 milioni di chirurgie plastiche a Istanbul. Cavolo! Non in Turchia, ma solo a Istanbul come città. In una città, incredibile. Sì, trappianto di capelli variano dai... Trappianto viene considerato comunque chirurgia? È una microchirurgia, sì. Non è proprio una chirurgia plastica completa, ma è una microchirurgia. Succedono dai 2.000 ai 4.000 trappianti al giorno a Istanbul. Madonna mia, incredibile. Stiamo parlando di 120.000, 150.000 trappianti al mese. Assurdo. Incredibile, non pensavo. Sì, è un mondo incredibile, sì. E una cosa che io mi sono sempre chiesta, no? Sono più gli uomini, penso, ma ci sono anche delle donne che vengono per fare appunto trapianto. Sì. Ottima domanda, perché sta crescendo il trapianto dei capelli sulle donne negli ultimi 4 anni è cresciuto del 300%. Noi generalmente abbiamo un 90% di pazienti maschi e un 10% di pazienti donne. Per un discorso comunque di caduta che nei maschi è più… Un discorso anche che le donne diciamo hanno un po', non sono ancora molto incentivate al trapianto dei capelli, hanno questa paura di essere un po' più giudicate, invece adesso l'uomo è arrivato a un punto dove il trapianto dei capelli… ognuno di noi conosce a meno una persona che ha avuto un trapianto dei capelli, no? Sì, negli ultimi anni tantissimi si sono trapiantati. Le donne sono un po' più, come si dice in italiano, hanno un po' più confidenziali, non vogliono far sapere quando l'hanno fatto. Secondo te come mai sta cosa? Eh non lo so. Cioè è dovuta da cosa sta vergogna nei confronti del trapianto, come se uno avesse scelto che gli mancano i capelli. Io per esempio, che ho un problema ormonale, io sul laterale, se lo faccio vedere in camera anche, sono un po' più stempiatella. E a me per esempio mi è venuto varie volte in mente l'idea di… Ma forse li fanno anche per le donne. Perché effettivamente quando ce l'ho legata e mi si vede l'attaccatura che è parecchio più alta di quello che dovrebbe essere. Sì. Però vedo che c'è tanta gente, che comunque anche negli uomini stessi, che magari si peritano e si vergognano appunto di sta cosa del trapianto, però io sinceramente non ci ho mai visto. Poi sulle donne non viene pubblicizzato troppo questo… almeno in Italia ti dico. Un po' di meno, sì. Un po' di meno, diciamo, ovviamente per un'azienda che fa marketing, che magari spende centinaia di migliaia di euro al mese in marketing e sai che il tuo mercato principale è quello del maschio, magari spendi un po' di meno sul mercato donna, no? Però è un mercato che sta crescendo. Come ti dicevo, nel quattro anni è cresciuto del 300% quello della donna, anche se… Ok. E tornando alla tua storia, quindi tu sei andato a farti questo trapianto e poi che cosa è successo? Come ti è avvenuta l'idea del business e come ti sei mosso, diciamo, all'inizio? Allora, praticamente io ero a Londra dal 2015. Per lavoro o per studio? Per cambiare vita. Ok. Per cambiare vita. Sono cresciuto in Italia, ho fatto un po' di errori quando ero più ragazzino e volevo solo cambiare vita, quindi nuove amicizie, nuovi posti, avere un mindset diverso e mi sentivo un po' soffocato in Italia, senza giudicare molto gli italiani, ma tanti di noi sono molto negativi, siamo molto negativi come popolo e mi sentivo un po' soffocato, quindi ho deciso di andarmene, sono andato a Londra. Da solo sei partito? Da solo, sì, da solo, senza famiglia, senza nessuno. Avevo un amico anche, che lui aveva vissuto sei mesi a Londra e mi ha detto guarda io voglio ritornare a Londra e ho detto andiamo. In un mese ho deciso, ho lasciato il lavoro e i primi due anni sono stati un po' tosti perché lavoravo come bartender, non parlavo bene l'inglese, anzi un cazzo di inglese praticamente, è il classico, è il classico italiano e niente, piano piano ho fatto il bartender per due anni, due anni come agente immobiliare e poi nel 2017 quando sono andato a Istanbul a fare il trapianto di capelli, ho sentito il 2017, sono 32 anni adesso, quindi 2017, 7 anni, 25 anni quando ho fatto il trapianto. Ho fatto il trapianto, ho scoperto un mondo diverso e ho detto cazzo voglio aprire una clinica, voglio aprire una clinica, vorrei iniziare subito come clinica ma ovviamente non avevo la possibilità di investire 5-10 milioni di euro per una clinica. Stavi bene, di famiglia da poter investire soldi o vieni da una famiglia normale? Sì, diciamo basso medio a livello finanziario. Ok, una famiglia classica italiana. Classica, sì, classica italiana, mio papà militare, lavoravo in forze speciali, mia madre lavorava come analista di mercato, quindi famiglia normalissima, tre sorelle, io eravamo in quattro quindi ovviamente le spese erano tante. Cavolo. Diciamo, sai quando in famiglia non gestisci bene i soldi, a volte vedi un periodo dove il tavolo c'è più da mangiare, c'è un periodo dove c'è meno roba. Sì, sì, classico in Italia, capita spesso in tante famiglie, certo. Sono andato a Londra con duemila euro praticamente, in tasca. E niente, quando ho visto questo mercato ho detto cazzo voglio iniziare, voglio iniziare, perché ho visto anche, ero in contatto con un po' di cliniche al tempo e ho visto che tante cliniche a Istanbul hanno in mano un motore gigantesco, perché tutti vogliono andare a Istanbul, però mancava proprio il customer service, mancava proprio la struttura per far contento un paziente al 100%, quindi ho visto uno sbocco di mercato e quando sono tornato a Londra ho aperto la compagnia, Blue Magic Group, l'ho chiamata Blue Magic Group con 50 sterline praticamente a Londra, poi aprire una compagnia in 3-4 ore. È come aprire una partita IVA tra virgolette in Italia, più o meno. Eh sì, con 20 volte meno i costi, perché in Italia per aprire una compagnia non ne ho mai aperte, ma penso che vadano mia a meno 600-1000 euro per aprire una compagnia. Ma forse non essere reale, magari le partite IVA molto meno, tipo quelle forfettarie, le partite IVA sia molto più economico, ora non mi ricordo. Sono esperto io perché ho aperto direttamente a Dubai dopo la partita IVA italiana, quindi non sono esperto. Di compagnia in Italia? Sì, non sono esperto. Comunque probabilmente costa meno in Inghilterra. Ed è un peccato, no? È un peccato, cioè vedi imprenditori come te, come voi, che hanno scelto destinazioni diverse, no? Sì, sì. Tanti imprenditori come noi adesso non hanno… Tanti giovani scappano purtroppo dall'Italia perché diciamo le leggi non sono molto semplici, non sono molto semplici. Cioè magari ci sono dei paesi all'estero dove riesci a gestire meglio alcune situazioni lavorative. Poi secondo te può essere anche un motivo che l'italiano è molto apprezzato all'estero? È molto apprezzato anche. Siamo più apprezzati, no? Sì, sì. Tu come ti sei trovato nell'esperienza aziendale all'estero? Hai riscontrato… cioè le persone apprezzavano di più rispetto a… Cioè magari il Made in Italy ha visto bene. Sì, l'italiano… Io mi ricordo quando lavoravo in un ristorante si chiamava Gaucho a Londra, il mio manager era italiano e mi diceva sempre tutti i manager ristoranti a Londra sono italiani perché quello che noi facciamo in 30 minuti l'inglese te lo fa in tre ore. L'italiano ha qualcosa in più ed è palese, lo sanno tutti, lo sanno tutto il mondo, non solo nel cibo ma un po' in tutto. Poi secondo me l'italiano che va all'estero è molto motivato nell'ampliare comunque le proprie conoscenze, il business, il network. Si dà da fare diciamo. L'italiano magari che rimane in Italia è più sotto la connella della mamma, tra virgolette. Mentre quello che ha il coraggio di scappare ha voglia di darsi da fare. Questo è quello che ho notato quando ho conosciuto gli italiani all'estero. Poi ovviamente non tutti, sono ragazzi bravissimi, ragazzi e ragazze bravissimi e che si danno da fare davvero tantissimo in Italia e hanno spaccato pure in Italia. E tanto di cappello quelli che non è semplice, ammettiamolo. Non è per niente semplice in Italia, non è per niente semplice. Però sì. Ci sono più ostacoli. Anche per un discorso di mindset perché magari sei circondato da persone che ti demotivano. Magari c'è quello che ha perso il lavoro, c'è quello che guadagna poco e alzano il prezzo della benzina e quello quell'altro e magari tu sei circondato da persone che sono negative perché parlano male di tutte queste situazioni e tu a livello personale l'accusi un po' a questa situazione e non sei motivato a spingere per davvero quando vivi in Italia. Invece quando sei all'estero ti circondi magari di persone come te che hanno voglia di crescere. Almeno questo è stato il mio caso. Secondo me all'estero ti scegli di più di chi circondarti. Perché ti ritrovai solo. Perché sei solo e quindi inizi da zero. In Italia bene o male c'è sempre questa cosa che magari ti circondi di persone che conosci da tempo ma se poi tu ti sei un attimino evoluto e questi sono rimasti a fare quello che facevano anni prima non potrebbero… Comfort zone. Esatto, non sono magari la migliore. E quando sei arrivato a Londra da solo come ti sentivi a livello mentale? Che cazzo avevo tanta energia. Sì? Sì, mi sentivo… un po' mi sentivo come che già la conoscessi Londra. Anche perché praticamente quando lavoravo in Italia un mese prima ho speso otto ore al giorno al computer invece di lavorare a studiarmi Londra, le zone, la mentalità. E quindi quando sono arrivato a Londra la sentivo già un po' mia. Anche noi abbiamo fatto uguale con Dubai. Sì. Ero in quarantena, chiuso in casa in Italia e io mi guardavo tutti i giorni i video su Dubai. Ho fatto più o meno la stessa cosa. Siamo andati durante il Covid voi, eh? Appena finito, appena finito siamo partiti. Il Covid. Il Covid. Mamma mia. Topic assurdo, assurdo. Io però ho qualche domanda da farti perché sono curiosa di sapere il tuo punto di vista su alcune cose, no? Perché ora secondo me la chirurgia comunque in generale sta andando tanto in voga. C'è chi comunque se la fa in maniera tale che forse forse neanche si vede ma c'è alcuni che ci danno dentro diciamo parecchio. Cosa mi pensi tu di chi diciamo… Abusa. Non dico abusa perché ognuno ha un proprio concetto di abuso, però che ne pensi? Allora, quando parli di abuso devi comunque tenere presente che chi ti fa la chirurgia è un dottore, no? Un chirurgo che tante volte magari deve fermare un paziente e dire guarda io non ti voglio fare questo tipo di chirurgia perché secondo me è esagerato, no? Per quanto riguarda la chirurgia plastica, beh, questo è il mio business, quindi non ti posso dire che sono contro le chirurgie plastiche. Sicuramente ci deve essere un limite, ma finché una chirurgia plastica rende una donna o un maschio più contento quando ti guardi allo specchio e ti senti meglio, per me non c'è nessun limite. Poi ovviamente ci sono come in tutto, ci sono casi estremi come in tutto nella vita, no? Ci sono proprio quelle persone che magari esagerano con le chirurgie plastiche. Quello che ti posso dire è, io per esempio ho fatto una laser eye surgery, avevo le lenti a contatto prima, occhiali, poi sono passato le lenti a contatto, ho fatto un'operazione agli occhi a laser a Londra e secondo me è stata la decisione migliore che ho preso nella mia vita. Per vedere meglio, eh? Per vedere senza occhiali, lenti a contatto. Certo, se ne parlava prima con un ragazzo che era qua, proprio di questa cosa, lui diceva che l'ha fatta, si è trovato molto bene, infatti non mette più gli occhiali. Fantastico, no? Poi quando vedi, noi facciamo 300-400 chirurgie al mese, solo tra piante di capelli, senza parlarti del resto delle chirurgie plastiche, quindi è un numero importante. E quando senti centinaia dei centinaia di pazienti ogni anno che hanno un livello di confidenza più alto quando vedono i loro capelli iniziare a crescere, aprono business, si sposano, sono più contenti. Senti amore, una bella capigliatura. C'è ovviamente lui, Gianna sta benissimo. Sì, io sono il mio mageo, quindi mi piace stare asato. E non ne soffri, no? No, per niente. Cioè, ci sono tanti maschi che soffrono il troppianto di capelli e soffrono l'appello di capelli. Esatto, raccontaci un po' il lato psicologico che riscontri nel cliente, magari uomo nel mio caso, che viene col problema magari della calvizia. Cioè, quali sono le loro preoccupazioni quando arrivano, le loro paranoie? E come si sentono dopo? Spiegaci un po', a livello di mindset, come vedi? Il cambiamento. Il cambiamento in queste persone. Bella domanda. Tutto parte da un dolore. Quindi ogni paziente ha un dolore, una mancanza di confidenza che vuole risolvere. Diciamo che fare la scelta giusta di a che clinica affidarsi è abbastanza complicata come cosa. Ce ne sono tantissime. Ad oggi penso 600 le cliniche certificate, poi parli magari di altre mille cliniche che vedi sui social, gente brava in marketing, che non hanno magari neanche un certificato, non ci sono neanche chirurghi che fanno la chirurgia plastica, ma solo magari tecnici. Quindi già la scelta di trovare la clinica a cui affidarti è molto molto difficile, soprattutto a Istanbul. E poi diciamo, quando vedi i pazienti arrivare in clinica, quello che vediamo noi nei loro occhi è un po' gli occhi di un sognatore, gli occhi di una persona che sa che la loro vita sotto un certo aspetto sta cambiando. Pensano, li vedi che pensano proprio a come cambierà la mia vita quando la mia confidenza con i capelli ritornerà. E quindi fanno un percorso di scegliere la clinica giusta, arrivare a essere un po' dubbiosi se funzionerà, se sarà doloroso. Tanti fanno quella domanda, quant'è il dolore? Ovviamente noi facciamo anestesia a livello locale, quindi non c'è nessun tipo di dolore, a parte un piccolo disconforto nei primi dieci minuti quando applichiamo l'anestesia, ma per il resto non c'è nessun tipo di dolore. Infatti i nostri pazienti sono sul lettino, guardano Netflix, usano il telefono, tanti businessmen hanno il laptop, fanno videoconferenze, perché magari c'è il dottore che fa l'altro pianto dietro. È fantastico, poi è una microchirurgia, dura dalle sei alle nove ore, una sessione, e poi sei solo a tendere, sei mesi in poi, per vedere i primi risultati. E quando fanno questa operazione, io non sono ferratissimo, ti tolgono i capelli da dietro e te li attaccano nei punti mancanti, giusto? Esatto, sì, la zona donatrice viene chiamata. Quindi vengono estratti dalla zona donatrice, vengono impiantati uno a uno sulla zona della caludizia. E c'è un rischio che questi capelli che ti trapiantano non attaccano, tra virgolette? C'è un rischio? Sì, c'è un rischio grande. Infatti la bravura di un chirurgo sta proprio lì. Per capire a che angolazione devi impiantare il capello, il bulbo, e che tipo di incisione devi fare. Anche perché la nostra scalp, la nostra cuta, ha diversi strati. Quindi devi assicurarti che il bulbo viene impiantato nello strato giusto, dove ci sono sostanze che fanno crescere proprio il bulbo dopo il trapianto. Io ho qualche domanda, ma anche botta e risposta, perché ci sono talmente tante che ho detto che le devo fare tutte. Allora intanto, lui appunto parlava del fatto della zona donatrice. Ci sono altre zone da cui si possono prendere? Sì, la zona della barba qua, quindi non tutta, ma solo questa zona qua. Ok. E' la seconda zona donatrice, sì. Se ovviamente il paziente ha una buona barba con bulbi di qualità. Sì. Si possono utilizzare anche perché il bulbo sia qua, e la terza zona donatrice è qua. Il petto? Il petto, sì. La zona centrale del petto. Queste sono le tre zone donatrici. E per le donne invece cambiano? Spero che cambiano. Che stanno i piedi sul petto e sulla barba, amore. No, le donne sono dietro, non sono dietro. Le donne, tra l'altro, è molto semplice perché noi alziamo i capelli, andiamo a rasare la zona donatrice, andiamo a fare l'estrazione, poi la donna quando ritorna alla zona nazione, porta giù i capelli, quindi non si vede niente. Sì, sì, sì. Quindi zona donatrice sono tre, la principale sono questa qua, barba e chest. E quindi però uno deve, cioè ti faccio l'esempio, se uno è proprio tutto pelato, totalmente, lo può fare un trapianto. Da dove li prende? Cioè perché va bene la barba, però non è che poi le va, cioè per tutta la testa, capito? Va bene il petto, però non è che, non so se c'è per tutta la, cioè ci sono comunque delle, diciamo, delle... Se uno è esageratamente pelato, magari è arrivato troppo tardi, è arrivato. Sì, praticamente noi andiamo a valutare due cose. Quanto è estesa la zona della calvizia e quanto, quanta zona donatrice hai. Quindi devi valutare, se la tua zona della calvizia è molto estesa, ma la tua zona donatrice è molto ottima, non è bassa, ma c'è la zona donatrice alta, quindi la parte dei capelli dietro non è... Sai che tanti volte quando perdi i capelli li perdi fino a sotto, no? Ok. Li perdi fino a sotto. Quindi vai a valutare quelle due cose lì e poi quanto il bulbo, il capello è di qualità. Quindi quanti bulbi posso estrarre per andare a coprire la zona della calvizia. Poi tutti i pazienti al mondo possono avere impiantati 100 bulbi, ma cosa ti fanno 100 bulbi, no? Sì, sì, sì. Fai conto che... No, fai conto che io ho fatto tre sessioni, totale di 10.000 bulbi in totale, quindi fai conto che ogni bulbo... Su te stesso. Sì, ogni bulbo può contenere da uno a quattro capelli. Quindi fai una media di tre capelli a bulbo, 30.000 capelli mi hanno impiantato. Capisci? Quindi se hai una buona zona donatrice puoi andare a coprire, sì. Noi accettiamo solo il 30% dei casi, quindi dove noi sappiamo che possiamo andare ad ottenere ottimi risultati col paziente, procediamo, altrimenti non procediamo. Magari altre cliniche lo fanno comunque. Mentre... Va bene. Io mi sto informando per lui in realtà. No, 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 ma io sto bene così. Mentre io ho sentito dire che in alcuni casi è obbligatorio prendere la finasteride, che è un farmaco. È vero che è obbligatoria o no quando uno fa il trapianto? E quali sono gli effetti collaterali di questo farmaco? Perché ho sentito dire che uno dei principali effetti collaterali è quello che poi hai difficoltà nell'erezione. Sì. È vera questa storia? Assolutamente, sì. Se tante cliniche lo mettono obbligatorio all'interno delle istruzioni prima o dopo il trapianto, noi danno una pillola al giorno di finasteride, quindi un milligrammo. Ma per quanto tempo? Per tre mesi, dopo il trapianto. Noi invece suggeriamo un quarto di pillola, quindi abbiamo, diamo in clinica anche dei piccoli dispositivi che ti permette di tagliare la pillola in quattro, è un quarto di pillola al giorno. In quel caso non abbiamo nessun tipo di side effect. Ok. Ma finasteride, sì, diciamo che... E a che cosa serve? Ti aiuta nella ricrescita? Sì, rafforzare i bulbi. Ok. Non aiuta nella ricrescita di nuovi bulbi. Per me... Il bulbo più forte te lo rende. Rende il bulbo, ovviamente dopo il trapianto di capello, rende i bulbi impiantati e i bulbi esistenti più forti. Ma a livello di, di, come si dice, di medicinali o qualsiasi cosa che c'è lì sul mercato che ti dicono che ti aiuterà per far crescere i capelli, per me non funziona un cazzo, non c'è niente che c'è solo il trapianto di capelli. Ci sono medicine che possono aiutarti tipo la finasteride se viene presa in maniera adeguata e per un tempo limitato, ma tutte le altre medicine sono tutto marketing, sono tutta fuffa. Mentre quelli che usano, io non so i nomi, quelle sorti di, quella specie di parrucchino con la colla che se lo mettono in testa, cosa ne pensi di questo? Perché ho visto dei video di queste persone che gli attaccano in testa sta cosa con la colla e la prima cosa che ho pensato è ma se io vado in palestra con questo coso in testa e sudo, mi si stacca. Cosa ne pensi di quelli che fanno queste cose e come funzionano? Stavo pensando, c'è un italiano famoso, come si chiama? DJ... DJ Francesco. Francesco? visto il suo profilo, sì. L'hanno mandato. Lui credo fece una... Fece? Pubblicizzava un'azienda o magari il socio. Ha fatto il trapianto di capelli, ha scelto la clinica sbagliata, quindi non ha funzionato, si è ritrovato in una situazione dove non aveva più bulbi nella zona donatrice perché aveva fatto la scelta sbagliata nella scelta della clinica. Ok. I capelli non sono cresciuti e quindi non poteva avere né una seconda o una terza sessione perché non aveva più bulbi da estrarre, da rimbriciare. Se ne è bruciati. Capisci? E poi è andato a fare... Parrucchino, tipo... Che poi li chiamano in modi diversi adesso perché... Patch. Sì, Patch. Guarda, non li sono neanche perché secondo me sono tutte cazzate. Tutto rispetto. Però so che lui sta utilizzando in quei modi chiamati in modi diversi però alla fine dei conti sono parrucchine. Ok, ok. Io invece ho sentito ora parlare anche... Tornando alla tua domanda sono contro. Sei contro, ok. Sì, ok. Io avrei sentito parlare anche invece di... Aspetta. Mico... No. Trigo pigmentazione. Micro bulbing, eh? Per statuaggio. Per le che si fanno i puntini. Però quella va bene se vuoi restare rasato. Cioè tipo su di lui se lì si vede un po' più di alone senza capello. Sì, hai fatto tu? No. Ok, ottimo. Ma io sono leggermente stempato. Sì, sì, infatti sono molto corti. No, per me è una figata quello. Se scegli l'artista giusto... È come un tatuaggio quello. Sì. Infatti noi collaboriamo con tanti di loro in America che ci mandano pazienti. Perché quando magari tanti possono fare un trapianto di capelli invece di farsi un tatuaggio che poi ogni 3-4 anni devi... Come si dice? Devi passarlo. Ce li mandano a noi. Quindi ci mandano i pazienti. Noi tante volte mandiamo pazienti che non sono idonei a loro quindi suggeriamo di fare il tatuaggio. Quindi se trovi l'artista giusto per me è una figata. Ok. Il maschio sta tendenzialmente meglio col cappello anche se è corto così come se tu che lo vedi Certo. Vabbè prendo un esempio a caso dai. San Gianmarco ho 31 anni e so un pochino stempiatello non troppo no? Ok. Ma se io mi faccio il trapianto oggi che ho 31 anni e fisiologicamente a 50 mi cascheranno altri capelli cioè poi le devo rifare un altro come funziona? Cioè i capelli che poi fisiologicamente mi cadranno dopo quegli altri quegli altri che non ho messo in quel momento cioè magari ora la steppiatura mi arriva fino a qui però a 50 anni in realtà mi si allarga qui. E come funziona? Può capitare sì. Noi una clinica onesta e con la giusta esperienza ti garantisce che i bulbi impiantati non ti cadranno per il resto della tua vita quindi noi diamo proprio un certificato di garanzia dove qualsiasi bulbo che impiantiamo non ti cadrà. Ovviamente non possiamo andare a garantire i tuoi capelli esistenti se succede magari dovrai fare un'altra sessione però quando vai a impiantare i bulbi sani vanno a rinforzare molto anche il resto dei bulbi esistenti quindi diciamo magari una percentuale larga di capelli che erano in via di caduta non cadono e come mai si rinforzano gli altri? I capelli impiantati sani vanno a lavorare su tutto il resto di capelli vicini quindi vanno a rinforzare tutti i capelli infatti anche quando mi hai fatto la domanda prima sulla barba il bulbo è diverso da quello di capelli è più dura giusto però quando vai a impiantarlo dopo un anno diventa conforme diventa molto simile a un bulbo dei capelli si adatta quindi tu non vai a notare la differenza dopo un anno incredibile e questi sostanzialmente vengono impiantati più nella zona della corona non è una zona frontale ma è una zona della corona ci sono persone che vengono a farsi il trapianto della barba tantissime quindi voi vi occupate di trapianto di capelli trapianto di barba e poi quale altro tipo di chirurgia fate nello specifico facciamo a livello di trapianto facciamo anche eyebrows quindi sopracciglia per donne maschi facciamo tante soprattutto per le donne barba capelli diverse tecniche facciamo afro hair quindi capelli africani quindi molto riccioli per gli africani sai che hanno questi capelli molto riccioli sono molto difficili sia da estrarre che da andare a impiantare quindi quella è tutta un'altra tecnica ok e poi a livello di chirurgia plastica forse se tiro chirurgia plastica c'è una chirurgia plastica dove diciamo tipo te personalmente a gusto tuo non sei d'accordo cioè che te dici sta cosa qui per me non ha senso farla io ce l'ho una tipo il cambio del colore degli occhi una cosa che secondo te per me non ha senso farla io una ce l'ho poi dopo te la dico ma probabilmente è un difetto di professione ok no non mi viene in mente niente secondo me il cambio è il colore degli occhi quello uno può scegliere è pericoloso molto pericoloso adesso non so i dettagli anche per però oggettivamente cioè io penso se tu nasci con gli occhi di un colore che non ti piacciono può avere senso si lo fanno in America sta andando molto popolare molto viral anche sui social molto molto rischioso noi non lo facciamo sono poche cliniche quello che fanno vi prendete per ora questa responsabilità sì sì per ora è molto rischioso qual è la chirurgia plastica a cui non siete d'accordo allora io sarò un difetto di professione però per me è quella che si rifanno il culo ok è l'unica cosa che veramente vai in palestra si allena e lì è proprio non avevo voglia di fare una cosa perché finché sono le tette finché hai il naso finché sono gli occhi quello ci nasci non è che puoi cambiare pure le tette non è che puoi fare qualcosa per farti le gresce o gli addominali bravo gli addominali io le vedo tipo le robe più inutili del mondo però capisco che ho tipo la liposuzione cioè quello secondo me è non voglia di fare una cosa che non solo migliora funzionamente liposuzioni però in un ex obeso uno che era 200 kg arriva al 70 e non riesce a togliere quel filo di grasso lì quello con la dieta magari difficilmente va via sì qua parliamo di mindset persone lazy come si dice in italiano fragili svogliate che non hanno voglia magari come dici tu andare in palestra ogni giorno per 6 mesi 12-13 mesi pigrizia e farsi un bel sedere che dicono ok andiamo in Istanbul con 4-5 mila euro mi faccio un BL Brazilian butt che poi si vede anche fanno anche schifo secondo me personalmente ne facciamo anche tanti quindi tanti pazienti magari se mi guarderanno però sì anche gli addominali no? gli addominali dai quelle chirurgie che tu con l'allenamento con una giusta mindset puoi ottenere e trovi l'uomo ragiona in maniera molto particolare a volte cerchiamo sempre le scorciatoie la velocità la velocità le scorciatoie per l'appunto ieri ho fatto una call con un mio allievo per parlare un po' dei risultati che aveva avuto quindi ho fatto questa chiamata con lui e lui mi ha detto mi ha ringraziato perché ha detto mi hai fatto risparmiare 5 mila euro lui aveva prenotato un volo per andare in Turchia a farsi il trapianto dei capelli e per togliersi il grasso dai fianchi dall'iposizione e in quel momento lì aveva iniziato il percorso con me in precedenza aveva fatto dieta e allenamento con altri coach e quel grasso lì non gli era mai andato via dopo un mese di percorso con me sparito il grasso ha chiamato in Turchia e gli ha detto guarda io vengo solo per farmi i capelli non ho più bisogno di questa cosa e quindi mi ha ringraziato tantissimo perché mi ha detto mi hai fatto risparmiare 5 mila euro che io avevo messo da parte quei 5 mila euro poi te li ha dati a te mi ha fatto piacere quando mi ha detto in che modo l'hai aiutato allora noi abbiamo un'azienda di coaching online io e mia moglie che seguiamo a distanza clienti in tutto il mondo che io li chiamo allievi per quanto riguarda le trasformazioni fisiche ok quindi noi abbiamo un team di medici di nutrizionisti e l'abbiamo inserito anche lo psicologo il fisioterapista facciamo i piani alimentari personalizzati facciamo l'allenamento personalizzato e poi abbiamo un servizio dove la persona ci può scrivere 7 giorni su 7 e noi siamo sempre a disposizione metti caso tu hai un pasto sgarro la settimana e questa settimana hai due matrimoni mandi un messaggio e dici guarda ho due matrimoni questa settimana come faccio a gestire la dieta entro 24 ore ti rispondiamo e ti diciamo la soluzione questo è un esempio quindi diciamo sono seguiti al 300% magari ti fa male la spalla oggi vai in palestra devi fare le spalle mi mandi un messaggio e mi dici guarda ho avuto un infortunio al lavoro e oggi mi sono fatto male nella spalla ma cosa posso fare al posto di questo esercizio e in tempo reale facciamo le sostituzioni quindi un servizio a 360 gradi ogni due settimane facciamo un controllo per vedere se la persona sta migliorando o magari se si è abituata perché non è che se tu ricevi una dieta e un allenamento funzionano per sempre dopo qualche settimana il corpo si adatta e non funziona più devi cambiare quindi bisogna cambiarla facendo questi controlli ogni due settimane monitoriamo l'andamento della persona per far sì che lui migliori in modo sempre lineare e pagano dei pacchetti tre mesi sei mesi un anno e poi rinnovano fantastico il nostro business è questo ogni due settimane anche online li fate i controlli tutto online noi non lavoriamo dal vivo solo online noi stiamo a Dubai abbiamo clienti in lingua italiana in tutto il mondo il problema è che non ho ancora imparato l'inglese perché ogni giorno parlo in italiano quando lo imparerà l'inglese? ma adesso è in programma perché se vogliamo infatti quando mi ha detto facciamo un'intervista all'inglese ho detto no dai facciamo l'italiano che merda capito? no e quindi appunto per questo difetto di professione probabilmente quelle sono diciamo delle chirurgie dove io personalmente ci trovo no ma più che altro sai cos'è perché noi magari vediamo in realtà la semplicità che ci sarebbe nell'ottenere un determinato risultato che non solo diciamo ti porta a ottenere un risultato estetico ma anche a migliorare proprio a livello di longeviti e di salute proprio in generale quando comunque con la chirurgia quello non ce l'hai cioè sì ok se si tolgono il grasso sicuramente molto meglio una cosa che posso approvare sai guarda i polpacci perché io a 15 anni che alleno polpacci sono sempre uguali vero? sì sono migliorati poco ma perché io geneticamente ho il polpaccio molto corto tibia lunga tibia sottile non crescono non crescono no il problema è che ha una tibia che è così e un polpaccio che è così quindi i vostri clienti che ti chiedono già mi aiutare a far crescere i polpacci che dici diciamo che con l'allenamento di migliora se tu alleni il polpaccio bene ti migliora la forma la rotondità però a livello di spessore se tu non sei portato geneticamente avere il polpaccio grosso è veramente difficile a meno che tu non prendi 20 kg di peso corporeo e allora cresce il polpaccio ma perché tu sei cresciuto tutto sei cresciuto tutto capito? sì era una battuta pensi che sia la parte del corpo più difficile a far crescere sì polpaccio a livello di crescita muscolare è un po' come anche gli avambracci non tutti ce l'hanno perché il polpaccio è più tendinoso come zona del corpo anche gli avambracci capito? è interessante sai tra l'altro tantissimo la maggior parte dei nostri pazienti che fanno il trapianto iniziano a allenarsi o ritornano ad allenarsi o ricominciano o ritornano o iniziano ad allenarsi in palestra fanno un makeover totale proprio perché poi ti migliora l'autostima sicuramente migliora l'autostima quindi diciamo ok adesso lavoriamo sul corpo lavoriamo sul business lavoriamo sulla famiglia finanzata moglie eccetera quindi parte tutto da lì tanti si allenano tanti miei amici dopo il trapianto di cappelli iniziano ad allenarsi mi mandano le foto contentissimo vogliono rivoluzionare a 360 gradi sì 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 parte proprio quel meccanismo lì bello invece senti la chirurgia più strana in assoluto secondo te quali poi adesso da non so da quanto c'è in giro però un po' più virale ultimamente è proprio l'allungamento delle gambe veramente io ho visto qualche video ma come funziona mi fai una domanda voi lo fate nella struttura dove siamo noi ci sono chirurghi che lo fanno io personalmente non ce ne occupiamo però se ci fanno la richiesta giriamo il contatto al dottore non so tendentemente come funziona so che dura molto tempo quindi ti installano dei meccanismi qualcosa di metallo nelle gambe dentro le gambe attorno alle gambe che praticamente col tempo nei 6 mesi 12 mesi successivi dopo la dopo la la chirurgia ti strecciano le gambe piano piano e diventi più alto ti allungano le ossa letteralmente guarda puoi prendere fino a 20 centimetri ma sei serio 20-30 centimetri a qualsiasi età si può fare dipende dalla tua struttura ossea ho sentito l'età hai altre cose hai il tuo DNA e altre cose non so esattamente adesso e ti dicono quanti centimetri puoi realisticamente prendere che costi ha una roba del genere tanti parla almeno di 40 mila dollari in su 40 mila dai 40 ai 80 mila forse è una delle più care a livello di chirurgia o c'è qualcosa di più caro tutte le chirurgie diciamo legate anche ai tumori cancro quelle lì sono le più le più costose poi questa qua diciamo sia una delle più costose perché voi essendo clinica comunque privata fate anche quel genere di cose là sì noi la nostra clinica è situata all'interno di un ospedale GCI accreditato GCI con accreditazione americana quindi noi non solo trattiamo quello che trattiamo noi con il nostro team ma se un nostro paziente ci chiede vuoi voglio fare questo e noi non lo trattiamo dentro la struttura c'è chi lo tratta quindi spostiamo il paziente direttamente diventa loro è l'ultimo momento che sono stato in Istanbul in clinica tra l'altro ho visto una cinquantina di persone da Londra che sono vendute in un giorno a cinquanta non in un metro che hanno fatto tutto l'intervento per allungarsi ma ti rendi conto? in un giorno in un giorno effettivamente cioè se nasci basso non ci puoi fare niente sì e se non l'accetti è brutto interessante anche quella sì ma dopo non hanno problemi però rischioso la vedo come una cosa parecchio rischiosa non lo so poi magari mi sbaglio immagino questo che dopo aver fatto l'operazione vai in palestra a fare la pressa allo squat non ce lo vedo non ce lo vedo no non penso c'è un recupero molto lungo si parla dai 6 ai 12 mesi anche di più quindi penso devi evitare operazione attività fisica non penso che tu possa andare in palestra con l'operazione quindi è un periodo molto duro e poi da lì praticamente le gambe perché non le alleni per 6 mesi perdi massa muscolare non puoi neanche camminare proprio penso che puoi camminare con i stampelle con le stampelle sì con qualcosa che ti aiuti quindi la tua gamba proprio perde massa muscolare quindi questi pazienti si ritrovano dopo 6-12 mesi con delle gambe così e poi ricominciano praticamente non fai riabilitazione poi lì con i polpacci cavolo ritornano per rifarsi il polpaccio devi fare l'operazione il polpaccio però è interessante è un upsell è un upsell e poi li mandiamo da voi invece quella più richiesta diciamo come chirurgia è il trapianto di cappello molto diffuso ma anche ti parlo magari di chirurgia estetica più soffita diciamo le tre le labbra il filler sì quella denti dentale fate anche le faccette fate sì dentale tutta struttura rinoplasti quindi operazione al naso e obesità noi la chiamiamo praticamente liposizione e palloncini dentro lo stomaco quelli che ti fanno perdere peso quelli vanno molto forti ma c'è qualche cioè per queste diciamo operazioni più invasive no tipo appunto ora stavate le gambe oppure magari per quelle si vogliono fare delle robe cioè parecchio tanto invasive che non si tratta del mi faccio che ne so le tette o un po' al naso o c'è qualche diciamo non prova da superare però gli vengono fatte tipo delle domande per capire un attimo se questa persona c'è sananimente prima di fare una roba del genere o cioè ci si affida a quelle noi pensa che ovviamente avendo uffici tra londra dubai tirana facciamo la maggior parte delle consulenze le facciamo in videochiamata quindi online il 90% dei nostri pazienti sono americani quindi viaggiano 14 ore in volo per raggiungere il nostro clinico in america i prezzi sono altissimi 5 6 volte in più anche il dentale inglesi tanti inglesi magari quello che in inghilterra puoi fare con 30.000 sterline con 5.000-6.000 euro lo puoi fare in Istanbul stessa qualità e quindi qual è la domanda? cioè se c'è diciamo qualche no se viene fatta tipo una consulenza o qualcosa per capire se effettivamente c'è soppronti comunque ad affrontare magari una decenza di quel genere o dei rischi di quel tipo cioè capito se ti voglio dire in quel senso come diciamo si viene fatta una consulenza online quindi in videochiamata c'è un questionario medico che devi compilare online quindi tutto viene trasferito al chirurgo e poi il chirurgo dice ok c'è la possibilità di fare la chirurgia quando viaggiano in Istanbul poi lì c'è la vera e propria consulenza face to face e da lì magari tanti pazienti non sono idonei perché scopriamo riscontriamo cose che magari non sapevamo dalla consulenza sono dei piccoli casi e vengono fatte tutte le consultazioni prima della chirurgia e poi da lì diciamo che possiamo possiamo procedere o no succede mai che un cliente magari su mille casi uno può succedere che magari uno si lamenta e vi chiede un rimborso tipo uno impazzisce magari voi avete lavorato in maniera perfetta e arriva uno che ti dice voglio un rimborso perché lo volevo così invece è andato in un altro modo in tal caso come la gestite una situazione di quel tipo allora tante si capita noi stiamo facendo guarda sono molto orgoglioso dei miei ragazzi perché abbiamo più di 5.000 recensioni online su tutte le piattaforme e 99,4% di recensioni sono 4 o 5 stelle quindi molto positivi abbiamo fatto più di 25.000 tra trapianti e chirurgie plastiche negli ultimi anni ovviamente diciamo a livello di aspettative un paziente a volte può avere delle aspettative diverse e quindi non è contento con i risultati e poi sono tutte cose che devi gestire col paziente quindi si capita come nel mondo non puoi fare tutti contenti e tornando al discorso iniziale perché poi lei mi ha interrotto volevo sapere ma te come sei partito quindi tu sei andato a Londra che non avevi un soldo hai lavorato per imparare l'inglese e tutto sei andato a farti il trapianto dei capelli cioè come hai fatto a trovare i soldi per aprire la prima clinica questo passaggio volevo capire bene come hai fatto hai fatto degli investimenti hai trovato dei soci hai rubato non so abbiamo fatti a tutto hai fatto una rabbina cioè sono curioso di questo passaggio perché anche io che comunque sono passato da lavorare al mercato con mio padre a prendere frutta e verdura e adesso la mia azienda ho fatto degli step che comunque ne vado fiero e mi piace raccontarli e quindi sono curioso di sapere anche anche i tuoi step interessante guarda sai perché già ma tanti tanti tante persone pensano che devi avere questo budget per iniziare una compagnia certo come faccio iniziare una compagnia un business perché se non ho budget non ho soldi per me non c'è bisogno di soldi io al tempo lavoravo come agente immobiliare magari avrei avuto al tempo 7-8-10 mila sterline da parte ok perché spendevo tanti soldi guadagnavo bene come agente immobiliare come arrivavano come entravano uscivano ok come ho iniziato ho aperto una compagnia ho iniziato a capire cosa mi serve a livello di business in Inghilterra l'avevi aperto sì ho aperto la prima compagnia nel 2017 a Londra come ti dicevo con 50 sterline quindi penso qualsiasi persona al mondo può aprire una compagnia con 50 sterline e poi all'inizio non ti devi preoccupare non ti devi preoccupare mi serve un ufficio mi serve il commercialista mi serve l'avvocato mi serve questo 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 assumere quello di cui ti devi preoccupare è fare soldi quindi qualsiasi cosa che apre all'inizio le vendite devi iniziare le vendite quindi la domanda che mi sono fatto è cosa mi serve per iniziare a fare vendite quindi mi serviva un sito internet mi servivano tutte le piattaforme per le recensioni social media con foto prima e dopo prima e dopo e all'inizio non ho iniziato come clinica all'inizio ho viaggiato a Istanbul ho fatto una partnership con una clinica e mandavo il primo anno pazienti a questa clinica e quindi ero il loro partner mandavo pazienti in exchange di una commissione e poi quando le cose iniziate a crescere all'inizio ero one man business quindi mi sono comprato una scrivania su Amazon a 150 sterline me lo ricordo ancora che tra l'altro l'anno scorso abbiamo fatto un giveaway l'ho dato a un ragazzo che anche lui vuole diventare un imprenditore italiano che vive a Londra mi sono comprato una sedia un laptop quindi 6-700 sterline di spesa ed ero one man business quindi generavo leads e facevo le vendite per quelle cliniche a marchio blue magic group quindi mi ero creato il mio logo che puoi pagare a una persona in India a farti un logo anche in Italia il mio logo per esempio me l'hanno fatto gratis quindi il mio amico designer in Italia Davide si chiama mi fece un logo al tempo e mi disse non voglio niente quindi tante persone ti blocchi io mi servono i soldi come faccio a investire in questo il logo mi serve il sito il sito ci vogliono 5000 euro ma con un po' di connessioni facendoti un po' furbo e mettendo le ricerche giuste puoi trovare cose a basso costo all'inizio mi sono appoggiato in India quindi ho trovato un team in India che mi ha fatto il sito internet e il resto quindi mi hanno aiutato spesa bassa e comunque le cose essenziali che ti servivano per partire sì e poi parti una volta che hai una struttura parti fai il leads generation per rendire le leads generavi contatti per questa clinica generavi contatti per il mio brand che poi si appoggiava quando facevamo i trapianti all'inizio facevo solo trapianti di capelli si appoggiava a un policlinico e quindi ti davano una sorta di percentuale per ogni cliente prendeva una percentuale sì al tempo intorno alle 1500 sterline a paziente quindi facendo 5-6 persone al mese guadagnavo più di quanto guadagnavo come agente immobiliare eri come un PR invece che per una discoteca per una clinica possiamo dire così one man business e poi rischiare rischiare perché se tu sai che hai 5000 sterline sul conto e il giorno dopo nelle prossime due o tre settimane devi investire 2000 per fare il lead generation e non sai da queste leads da questi contatti quanti effettivamente potrai vendere o no è tutto un rischio certo poi da lì all'inizio si rischia tanto e poi quando hai soldi da parte inizi a rischiare un po' meno all'inizio è normale il rischio fa parte della crescita e prendere le decisioni giuste secondo me per me la differenza che fa un uomo di successo o una donna di successo di non successo è non solo il rischio quindi prendere rischi ma prendere anche le decisioni giuste quindi valutare che scelta devi prendere nel business nella crescita non solo personale ma anche a livello dell'azienda e cercare di prendere quante più decisioni giuste possibili poi quelle sbagliate sono tutta esperienza quindi impari da lì e ti devi solo assicurare che non fai gli stessi errori di nuovo certo e quindi lì one man business cosa è successo non avevo i soldi per aprire un ufficio a Londra quindi lavoravo da casa l'indirizzo della compagnia l'ho messo a casa one man business per qualche mese per un anno e due mesi e poi ho aperto un ufficio a Tirana volevo andare nelle Filippine perché dicevo cavolo voglio insegnare a altre persone come me a come fare queste vendite per allargarti come fare consulenza per allargare perché alla fine devi il personale bravo devi scalare un business perché quanto avrei potuto scalare facendo le consulenze io essere one man business e quindi ho detto devo aprire un'azienda un ufficio assumere persone insegnarle insegnare a queste persone come vendere e far crescere l'azienda all'inizio volevo andare nelle Filippine mi hanno detto che ci siano tanti call center sì poi ho detto cazzo troppo lontano uno degli stipendi più più economici in mercato anche più vantaggioso sì Filippine ovviamente un average salary si sta parlando di 150 dollari al mese capisce tanti Filippine adesso stanno arrivando anche in Europa sempre di più perché ovviamente ci sono opportunità migliori e alla fine per una ragione o l'altra long story short mi sono trovato a Tirana Tirana comunque è sede di tante aziende come Amazon Vodafone Apple che hanno call center giganteschi all'interno della città come dire pubblici o non pubblici perché tante di queste aziende non vogliono magari dire dove sono locati anche privati sì e ho detto cavolo se le persone lì sono brave nei call center voglio aprire io ovviamente non ho aperto un call center ho aperto un ufficio di consulenza medica trovo le loro persone bravi al telefono che sanno fare le vendite in Albania parlano tanti l'italiano e l'inglese sono bravissimi con le lingue hanno 36 lettere nell'alfabeto quindi sono molto bravi a imparare nuove lingue avevo al tempo 25.000 stelline da parte abbiamo aperto la compagnia in Albania Tirana all'inizio ho assunto quello che era il mio direttore vendita nell'agenzia immobiliare gli è piaciuto il progetto ho venuto a lavorare prima li formavete i venditori all'inizio quelle skill che avevi imparato non ho mai fatto il manager nella mia vita quindi tante persone dicono come faccio aprire un'azienda non ho mai fatto il manager non ho mai gestito un business cazzo ti butti poi prendi tutte le cose come vengono sono sicuro che avete fatto tantissime esperienze anche voi non devi nascere imparato impari le cose nel cammino non ci sono formule segrete non ci sono scorciatoie è solo duro lavoro e lavorare anche col cervello e continuare 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 finché trovi ovviamente soluzioni all'inizio si per quello che sapevo era un ottimo venditore a Londra per quello che sapevo ovviamente ho dovuto applicare vendere case o affittare case a Londra a vendere trappianti di capelli avevi già delle skill sulla vendita che hai acquisito che poi devi tramutare in un prodotto diverso come quello che è il trappianto di capelli e poi da lì cresci ti fai degli script insegni gli script training face to face piano piano le persone crescono arriva la prima vendita arriva la seconda vendita e poi ovviamente il segreto è avere un buon marketing che genera lead buoni venditori che chiudono contatti poi quello che la revenue quindi il fatturato che prende da quelle vendite ritorna nel marketing marketing fa un buon marketing leads vendite e c'è una crescita una crescita quindi se tu fai bene quella formi persone sui soldi regolari formi persone e continui a crescere delegali deleghi continui a delegare ovviamente tutto quello che c'è da fare in azienda poi inizia a creare nuovi dipartimenti adesso noi abbiamo nove dipartimenti all'interno di Blue Magic Group quindi ci siamo allargati abbiamo tra Istanbul Londra Dubai Tirana quindi tu adesso ti occupi sempre di generare lead per le cliniche o hai proprio una clinica che è tua? sì allora noi a distanza di due anni ho fatto ho preso ho comprato il certificato costa 700 mila dollari un certificato trappianti di capelli a Istanbul e poi ho fittato degli spazi quindi noi siamo abbiamo una clinica nostra dove facciamo trappianti di capelli e chirurgia e anche lì è stato un grande rischio perché quando ho fatto quell'investimento lì non avevo neanche quella cifra lì in banca quindi la banca mi ha supportato e prendi un rischio certo che cazzo ti fai un debito di mezzo milione di euro adesso dopo un anno 18 mesi 20 mesi che lavoro sicuramente ci hai creduto tanto sicuramente sapevi quello che facevi esatto anche voi ci avete tutto in testa perché se non hai la passione e non credi nel progetto non potrai mai farlo è per questo che nessuno cioè non tutti riescono ad arrivare in cima perché magari tante persone hanno il potenziale ma non ci credono davvero tanto e non si buttano sul progetto e magari la potenzialità ne hanno anche migliori delle mie però non hanno il coraggio di fare le cose hanno paura e e non crescono e tanti oggi magari ti chiedono già ma come hai fatto a crescere come hai fatto a creare questo 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 che ti conoscevo non so adesso che disponibilità avevi quando eri più giovane siamo partiti con zero lavoravo al mercato con mio padre a vendere la frutta e la verdura e tanti amici adesso non ci credono fino a prima del covid fino a 2018 caspita complimenti 1500 euro al mese che ad oggi è un buon stipendio in Italia sì più o meno però ecco quindi diciamo sei partito con 50 sterline però io sono curioso a distanza di anni di capire ora invece su che ordine se si può dire ovviamente fatturati circa siamo con le tue appunto cliniche ecco sì allora noi l'anno scorso abbiamo chiuso 14 milioni di sterline solo con i trappianti di capelli solo con i trappianti di capelli cavolo un grande mercato più milioni più milioni di capelli quanti bulbi quanti bulbi pensa quante teste calve come le tue hanno salvato amore sì sì dai 200 ai 400 al mese cavolo veramente stiamo facendo bene infatti poi da lì un imprenditore cosa fa inizia a diversificare diventi passi dal quadrante dell'imprenditore all'investitore quindi poi utilizzi il tuo profitto in aprire aziende nuove come avete fatto voi con i prodotti e quindi inizi a diversificare poi da lì ho aperto un centro di padre a Tirana ho aperto un'azienda di marketing e altre cose per diversificare quindi gli investimenti che hai sono questi oltre alla clinica non lo so investi magari nell'immobiliare in altri progetti sì faccio tanto quali altri investimenti hai? nelle properties sono rimasto quindi a Londra investo molto in properties quindi compravendi e renta facciamo tante molta rental accommodation quindi affittiamo case affittiamo case o compriamo case e poi affittiamo stanze ok quindi diciamo il rental income che prendi dalle stanze ti copre non solo il mortgage quindi il mutuo o l'affitto della casa ma ti rimangono anche magari dai 500 ai 1500 stralini in più quindi faccio molto anche quello e abbiamo aperto il primo centro di padre nei Balcani quindi è stata una grande scommessa tre anni fa giochi a padel tu? sì se gioco non sono ossessionato dal padel io gioco a tennis io gioco a tennis noi abbiamo tanti tennisti che adesso non giocano più a tennis fanno solo padel lì a Tirana perché è più comodo il padel no ma sai cos'è trovi più facilmente anche il compagno per giocare perché è più semplice a padel? sì sì perché oggi se dici andiamo a giocare a basket o andiamo a giocare a tennis nessuno viene a giocare a tennis con te a padel vengono tutti è difficile giocare a tennis il tennis è difficile ho provato a dare una racchettata una palla un paio di volte non riuscivo neanche a fare un metro non è facile colpire la racchetta ci vuole esperienza sì sì devi colpirla giusto il padel invece è un po' è molto più semplice mentre in palestra quante volte ti alleni? perché io ti ho conosciuto tramite un mio amico che mi ha detto che voi vi allenate insieme in palestra a Tirana quindi sono curioso di sapere è tanti anni che ti alleni quante volte ti alleni come ti alleni sono curioso per me è essenziale diciamo che qualche anno fa ho scoperto che siamo quello siamo quel che facciamo e siamo quel che mangiamo giusto ultimamente a livello di dieta sto sperimentando poi magari tu me la disapproverai la carnivore diet ok e guarda ne parlavo ieri con un altro ragazzo che abbiamo e voglio sapere cosa ne pensi di questo tra l'altro allora ti dico che non esiste una dieta perfetta perché metodi alimentari ce ne stanno tanti esiste quella che è più sostenibile per te per me per lei quindi una dieta diventa vincente nel momento in cui tu riesci a portarla avanti per tanto tempo e a farne uno stile di vita senza sentire il peso e dire sto a dieta quindi io che lavoro principalmente con l'italiano medio non posso vendere il mio servizio a persone togliendoli i carboidrati perché l'italiano medio è un gran mangiatore di pasta e di pane se io propongo una dieta come quella lì sicuramente porta risultati come tutte le altre diete però l'italiano medio dopo un mese mi manda a cagare quindi ci sono altri metodi che tu migliori nello stesso modo però ti puoi godere un piatto di pasta anche tutti i giorni qualche fetta di pane quindi non è che dico che non è un buon metodo sicuramente è un buon metodo ma va contestualizzato in base alla persona che hai davanti puoi durare se qualora una persona potesse durare per sei mesi a fare carnivore secondo te che tipo di allora lo sai qual è il fatto ecco io la penso in questo modo io purtroppo non sono fan delle diete che si fanno per un periodo di tempo limitato e poi si diciamo si smette di farle perché a parere mia non ti insegnano niente e quando dici tempo limitato tipo sei mesi tipo due mesi tipo un anno o quello che uno riesce diciamo che non riesce a integrarle in quello che è il tuo stile di vita cioè se io a te ti chiedo se io a te ti chiedo fra dieci anni esatto se io a te ti chiedo fra dieci anni te ti ci vedi a mangiare in questo modo solo carne io ti direi di no su di me io preferisco mangiare in maniera equilibrata tutti i giorni quindi quello che penso io è se per ottenere risultati io li posso ottenere comunque in tante strade e una di queste strade è una strada in cui io anche tra dieci anni mi ci vedrei a mangiare così perché non devo intraprendere quella e magari mi devo fossilizzare su una cosa che sì magari funziona più veloce magari è figa per un periodo la novità e tutto quanto ma che poi non ti insegna niente a lungo andare e quindi poi quando arrivi al momento in cui dici ok è arrivato il momento che mi sono rotto le palle e non lo voglio più fare dopo non sai che fa perché magari riprendi chi li persi magari non sai come gestirti se vuoi riprendere a mangiare anche gli altri alimenti su un'alimentazione comunque più adattata su magari anche i tuoi gusti preferenze ricette che comunque come si fa anche noi con i nostri clienti che puoi giostrarti comunque come ti pare no perché c'è talmente tanta scelta che veramente mangi ogni cosa tu impari a alimentarti in maniera equilibrata quindi qualsiasi alimentare intanto non si crea diciamo terrorismo verso dei determinati alimenti perché se tu migliori non mangiando una cosa tu associ quella cosa a una cosa cattiva e questo già non è corretto poi per marketing cosa fanno sui social arriva l'influenza di turno che dice i carboidrati non li mangiare se non muori perché? perché lui magari vende una dieta senza carboidrati e quindi il suo marketing gira tutto intorno a dire non mangiare quello perché il terrorismo fa visual ma in realtà non è che è come se tu tu hai 1500 euro in tasca e dici il mio obiettivo è arrivare a un milione di euro se vengo da te tu mi dici il real estate è un ottimo metodo fai così 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 magari vai da un altro e ti dice no fai la clinica dei capelli ognuno porta acqua sul molino io ti dico no fai lavorare nel fitness ma ci sono mille modi per arrivare da zero a un milione di euro logicamente tu devi utilizzare il metodo che è in linea con 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 il tuo piacere personale perché poi quell'azienda che ti crei te la devi tenere capito perché poi deve essere sostenibile non è che ci metti una settimana arrivare a un milione di euro un mese ci vuole magari anni e se non è sostenibile non ci arriverai mai e poi magari non la riesci a mantenere mantenerla ma voi siete d'accordo sul fatto che ognuno di noi è diverso e reagisce in maniera diversa al cibo all'annamento assolutamente sì e lì sta in quello che ti segue come ti dicevo prima facendo i controlli ogni due settimane vedere come risponde il tuo corpo per questo noi facciamo i controlli per vedere ok in queste due settimane come è andata hai sentito tanto la fame hai sentito poco la fame stai migliorando e lì si fanno poi le modifiche per personalizzare sempre di più il protocollo sulle tue esigenze è così che deve lavorare il professionista anche perché come hai detto tu al giorno d'oggi se apri i social media non si capisce più un cazzo è tutto marchio porta acqua proprio un mulino e c'è tanta disinformazione le persone non sanno più a cosa credere posso mangiare il pane non posso mangiare il pane ma lo sai cos'è secondo me allora io penso una cosa che magari puoi riscontrare anche tu nelle cliniche tipo io per esempio sul fatto del trapianto dei capelli ho sentito tante volte alcuni medici che dicevano no non andate nelle cliniche che fanno il taglio in quel modo perché in realtà il taglio migliore è quello fatto in quest'altro modo qui ora io non me ne intendo sto parlando proprio diciamo ne sai un po' di trapianti terra terra e quindi nel mio dico ma magari sono buoni tutte e due metodi soltanto che a quella persona gli riesce farlo bene in quel modo lì e quindi dice che il suo è il migliore nell'altro che magari non gli riesce e dice che in realtà l'altro modo è meglio che non funziona l'altro e sul fitness secondo me spesso succede la stessa cosa che ci sono persone che magari non riescono a far migliorare i propri clienti mangiando in maniera diciamo sostenibile equilibrata ma sono bravi soltanto alle varie carboidrati a fargli fare le rete drastiche perdonami però veramente cioè a far fare quelle diete lì a una persona che non ha bisogno assolutamente perché non ha particolare malattie ma sta bene in salute se vuole semplicemente perdere dei chili la fa pure mi nonna cioè a mangiare poco sobravi tutti per perdere peso è bravo il professionista che ti fa mangiare in maniera equilibrata che non ti fa mancare niente e ti fa migliorare in base a questo discorso qua tanti anni fa ho ascoltato un podcast molto interessante si chiama The Podcast of the CEO si può trovare su Spotify questo ragazzo in questo podcast diceva che praticamente prendi un calendario ok per 30 giorni ogni giorno lo dividi in 2 3 4 5 in base a quante volte mangi durante il giorno e ogni volta che mangi qualcosa cerca di mangiare per questo mese diversi cibi in diversi orari e poi ogni giorno dai un feedback di come ti senti fisicamente mentalmente che ne so mangio un'insalata a pranzo e dopo un'ora mi sento più stanco dai un feedback mangio la carne a pranzo mangio la carne la sera mi sento in questo modo o bevo il caffè per esempio una cosa che io non faccio è bere il caffè adesso per 5 giorni non posso bere il caffè ma una cosa che non faccio non bevo mai il caffè challenge 5 giorni senza caffè la mia ragazza dice che sono addicted da caffè quindi voglio provare a lei che non lo sono sono 32 ore fino ad adesso 33 e cosa il fatto che tu le stia contando non ci dice che sei addicted esatto esatto e per esempio io non bevo caffè nei primi 90 minuti della giornata ho scoperto che il mio corpo poi magari ognuno di noi è diverso ma tante persone hanno riscontrato la stessa cosa che bevendo il caffè nei primi 90 minuti della giornata ti senti più stanco dopo pranzo dopo pranzo inizi a senti si stanco che è un effetto rebound con la caffeina prima ti dà il picco di eccitazione e poi ti dà il crollo e quando il corpo è ancora in risveglio quindi adesso io bevo il caffè dopo 90 minuti della giornata e quindi cosa ho fatto questo calendario di 30 giorni ho raggruppato tutti i feedback ho detto ok non posso mangiare carne il pomeriggio a pranzo perché mi fa sentire più stanco non bevo il caffè nei primi 90 minuti perché mi fa fare il picco e quindi in questi 30 giorni raccogliendo tutti i feedback ho detto ok questo lo posso mangiare o no e se lo mangio come mi sento e perché ti dico questo perché ognuno di noi è diverso reagisce in maniera diversa al cibo a livello digestivo esatto poi c'è chi è allergico a qualcosa chi non e quindi devi ascoltare il tuo corpo devi ascoltare quello che funziona per te ma come fai a scoprire quello che funziona per te devi mettere il lavoro per un mese devi provare devi prendere nota e devi saper studiare le tue note ok se non fai questo lavoro poi ti ritrovi ancora a non sapere cosa fa bene per te e ascolti magari un cazzone hai molta disciplina anche da questo punto di vista sì bisogna essere disciplinati quanto pensi sia importante nell'ambito business disciplina no comunque vabbè uno stile di vita sano uno stile di vita sano cioè allenarsi comunque seguire un'alimentazione che ti dà le giuste energie eccetera è importantissimo importantissimo poi ti dicevo prima devi ascoltare il tuo corpo il tuo corpo la tua mente sta meglio quando ti alleni allenati che hai voglia non hai voglia di allenarti la mattina io mi alleno la mattina di solito mi trovo meglio a lavorare a fare i training di mattina mi sveglio per le sette e mezza otto alle otto e mezza sono in palestra faccio un'ora 30 minuti di cardio e poi inizio la mia giornata mi fa sentire bene lo faccio mi sveglio non c'ho voglia lo faccio lo fai uguale capito disciplina disciplina non vai in palestra perché c'è voglia di andare in palestra vai in palestra perché sai che andando in palestra ti porta questo tipo di mindset e questo tipo di beneficio corporeo e poi da lì deriva la confidenza e tutto il resto quindi disciplina è importante stessa cosa nel cibo o nell'alcol io adesso ho 32 anni se faccio una serata tra l'altro stasera ho un mio migliore amico non so che sono a Milano abbiamo un compleanno sorpresa e si berà qualcosa so già che magari nei prossimi due giorni il mio cervello lavorerà all'80% perché per me l'alcol mi dà un impatto negativo i giorni dopo non bevi di solito? molto molto di meno negli ultimi anni cioè non capita mai che bevo più di tre drink in una serata quando bevo quella adesso essendo anche con con la mia ragazza magari beviamo un po' di vino due volte al mese uno due bicchieri terzo bicchiere massimo ma poi basta so che se bevo di più poi per due giorni non ci sono io sono dieci anni che non bevo dieci anni? ho bevuto forse l'anno scorso ti stimo un sorso di vino per fare un brindisi un sorso perché mi avevano obbligato anche lei tutti e due no no mi piace il vino mi piace il vino lei risera un bicchiere di vino con la carne e la bevo dieci anni senza acqua non so l'alcolizzata sì da ragazzino bevevo quando andavo in discoteca con gli amici cazzo grande dieci anni senza acqua poi ho iniziato a farle gare e ho detto ma perché devo bere? cioè io sono arrivato a un punto che da ragazzino sai vai in discoteca in Italia hai il drink quello omaggio quindi andavo in discoteca e bevevo sai un po' ti sballa il drink sei un po' più confident vai lì dalle ragazze poi che cosa è successo? che avevo trovato piacere nel fare queste bevute quando vai in discoteca perché ti senti più rilassato più ti diverti di più cosa è successo? per un periodo io mi ricordo avevo avuto la febbre e stavo prendendo l'antibiotico ok ero andato in discoteca con gli amici e stavo prendendo l'antibiotico e io sapevo che l'alcol non si può bere quando usi l'antibiotico e io non l'ho usato quella sera non ho bevuto alcol che cosa è successo? è successo che quella sera lì mi sono annoiato ho detto cavolo non ho bevuto questa sera in discoteca e mi sto annoiando e dentro di me ho detto questa cosa non è normale cavolo cioè non è normale che se io non bevo quella cosa vado in discoteca con i miei amici e non mi diverto mi sono sentito un coglione perché ho detto io sono dipendente da questa cosa anche se facevo due drink per me io ho capito che era una dipendenza ho detto io sono forte di mente non voglio essere dipendente da questa cosa posso divertirmi anche senza e ho smesso di bere poi era anche il periodo in cui stavo prendendo la patente ho detto sai che c'è? smetto non voglio più bere sono più di 10 anni avevo 18 anni sono 14 anni hai 28 adesso? no ne ho 31 avevo 19 anni dai 93 sei no? 93 ok 92 allora non sono 10 anni sono di più anche di più ho fatto male i conti 13 anni? sì non ho più bevuto fantastico sì magari una volta l'anno un sorso ma neanche ogni due quando mi obbligano però diciamo che è sempre super sobrio a me no il vino piace in realtà però non ne sono dipendente cioè capita magari se siamo tutti a cena un bicchiere lo bevo volentieri però se non lo bevo nessuno non lo bevo nemmeno io non sono di quelli diciamo fissati ecco con con l'alcol non mi solo il vino perché poi restano per me niente fa male se non esaggere alla fine no no ma infatti io come dico sempre nella giusta misura si può fare tutto e poi c'è differenza una grande differenza tra vino e super alcol esatto sì uno due tre bicchieri di vino rosso meglio ok ma quando ti fai magari tre o quattro drink diventa già un po' più il super alcol è diverso sì assolutamente comunque Pasquale siamo in via di chiusura e non so se lo sai ma in ogni episodio il nostro ospite deve affrontare una sfida fisica finale braccio di ferro no me lo dicono tutti non è braccio di ferro ma meno male perché se no vincereste tutti sono scarsissimo braccio di ferro sono scarsissimo ma la sfida è abbiamo una classifica che facciamo sul monitor dell'episodio con il numero di push up eseguiti da ogni partecipante e facciamo una classifica questa è la faccia di terrore quant'è tutti mi fanno questa domanda tutti mi fanno questa domanda aspetta ieri ho allenato petto ieri ho allenato petto è la scusa è la scusa ho allenato petto tra l'altro lo so non avevamo tu sei pronto sì sul tavolo no per terra mi dite il record fino adesso quant'è il record? allora puoi scegliere tra 80 di record normali oppure 10 con Gianmarco sulla schiena perché un ragazzo ha voluto me sdraiato sulla schiena ne ha fatti 10 eh proviamo anche quello ti piace il genere? benissimo 1 2 3 4 5 dai respira non stare in a prea 10 11 12 13 14 15 16 dai 17 18 ti fai in pampo a cena stasera dai 24 25 27 27 28 respira 22 24 25 dai 8 9 40 è buono sei forte sei forte 46 47 48 49 5 40 50 50 a 33 a 33 1 2 50 53 quindi Pasquale grazie mille per essere stato nostro ospite ci ha fatto davvero tanto piacere far due chiacchiere con te ci è piaciuta tanto la tua storia il tuo percorso quindi ti faccio i miei complimenti grazie e grazie ancora ragazzi anche a voi per aver visto questa puntata di Fit Cash mi raccomando come sempre attivate la campanella seguiteci iscrivetevi al canale e grazie ancora Pasquale grazie ciao a tutti